La mia signora sta svolgendo un coso da osteopata, aveva saputo che tu hai qualche problema di hernia e ci chiedeva se tu volessi fare delle sedute di prova, brava amore, lei è disponibile, è vero brava amore, guarda gli strumenti al corso, in questo nuovo corso di formazione della regione, eh? Ti piace? Quindi al corso che cosa avessi bisogno? Fate vivo, eh? Fate vivo al corso, saluta al corso amore, o meglio, brava amore.